bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e oggi tantissime le notizie per i prossimi giorni di fortnite si scoprono man mano che passano i giorni tutte le news riguardanti il fortnightmers e per gli occhi più attenti avrete notato che in giro per la mappa ci sono ogni giorno dei dettagli in più abbastanza particolari ragni sulle case ragnatele tante cose molto carine parleremo anche della nuova skin in arrivo parleremo della possibilità sembrerebbe di avere una skin gratis per il fortnightmers e tanto tanto altro prima però volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi supportano nello shop con il mio codice creator xyuderone grazie mille ragazzi per il vostro sostegno mi raccomando non dimenticate di iscrivervi ai miei canali e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica con i miei video news e allora andiamo direttamente a parlare del primo argomento di oggi ed è una notizia davvero importante perché parla di aggiornamenti abbiamo i quattro bug fix che verranno fatti nella patch 14 punto 40 la prima riguarda il battle royale e ci viene detto che nelle modalità competitive quindi nelle arene e nelle altre modalità competitive verrà disabilitata la bomba di dr doom probabilmente era considerata un po troppo op per quello che riguarda appunto gli end game e quindi non ci sarà più dovrebbero sistemare come vedete la sotto inventory inventory shuffling after respawning in team ramble questo è un problema che già avevamo anche da dalla precedente patch se giocate in rissa squadre e raccogliete le armi potete mettervele a posto ma quando crepate e responate le armi vengono tutte mischiate in base all'ordine in cui le avete prese consiglio di xyuder una volta che avete il loot giusto droppate tutto e riprendete in ordine come le voleste come le volete in questo modo quando responate ve le respona correttamente e non c'è il problema per quanto riguarda invece la modalità creativa sistemata la i colori del cielo che non sono giusti e dovrebbe essere stata integrata anche la nebbia questa ovviamente per dare più possibilità di creare mappe a tema di halloween e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché abbiamo la possibilità di vedere forse già nello shop di oggi questo video registrato prima dell'uscita dello shop di lunedì il nuovo set grimoire and holo school quindi sono scusatemi grimoire holo school e forsack and strike due nuove skin in arrivo ovviamente per il fortnight mars dovrebbero essere sto pensando ma credo che sia corretto le prime skin del fortnight mars 2020 perché fino ad adesso abbiamo solamente rivisto tutto quello che è uscito anche negli anni precedenti quindi avete avuto la possibilità di riprendere i calciatori la falce la guld trooper il milite teschio e tutte le altre è stato una meraviglia non è uscito però il il tizio quello con la giacca e la testa di zucca e neanche quell'altro quello con la testa di zucca però olografica molto bello questo questo set ma vi ricordo anche che sta per arrivare un bundle il cripti crashers pack che ovviamente come vedete è a tema halloween perché tutte e tre le ragazze che fanno parte di questo pack sono palesemente molto molto particolari diciamo che hanno un colore di pelle abbastanza palido cripti crashers pack arriva con tre skin 3 back pack e 3 picconi molto probabilmente non costerà vivax ma mi sa che costerà cash proprio quindi non ho ovviamente la certezza di questa cosa non è brutto assolutamente tutti tutte e tre le skin sono davvero carine i picconi diciamo che non sono male quindi molto probabilmente lo vedremo prima dell'arrivo di halloween e quindi tanta roba e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché insieme a tutte queste news abbiamo anche un po di emote alcune non sono ancora uscite o dovrebbero comunque uscire in questi giorni ritorno al headbanger come vedete la nella terza fila torna il lama cadabra bellissima quella epica dove ci sono tutti i lama che sprono intorno con la canzoncina il fright funk ieri è uscito il which way o l'altro ieri non me lo ricordo boneless dovrebbe tornare il ballo disossato è tantissimo che non si vede speriamo davvero che ci abbiano preso e non ci abbiano preso in giro andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché questo è l'argomento più interessante che riguarda il video news party royale hounds as this halloween allora senza dire niente a nessuno il sito dedicato alle news di fortnite quello ufficiale dove c'è anche il party royale è stato aggiornato con un nuovo evento che verrà proposto nel main stage che si chiama come vedete con delle icone quindi c'è la nota musicale la zucca di halloween e il teschio ed è programmato per sabato 31 ottobre alle ore 9 di sera però del eastern date time non credo che sia giusto per noi dovrebbero essere le 11 per noi per essere sicuri fate 9 pm ed it in italia scrivetelo su google in questo modo vi verrà detto il l'orario giusto comunque ve lo ripeterò quando avremo delle informazioni migliori e questo dicono che potrebbe essere anche un evento dove verrà regalata ai partecipanti una skin di halloween ma io vi dico sempre prendete con le pinze questa informazione perché non c'è niente di certo non ci sono immagini sono solo delle supposizioni sarebbe anche la prima volta che regalerebbero una skin intera ai giocatori quelli di fortnite abbiamo visto in questi anni anche proprio per il fortnite mers due anni fa il motore oscuro bellissimo il deltaplano quello con la locomotiva abbiamo visto tante altre piccole piccoli regali ma una skin intera sarebbe davvero tanta tanta roba ragazzi quindi stiamo a vedere quello che sarà fatto e incrociamo le dita per il regalo e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché ve ne avevo già parlato qualche giorno fa e adesso finalmente arriva la conferma che le barche e gli elicotteri verranno dotati di carburante a parer mio è una cosa giusta perché non ha senso se hai inserito i veicoli che vanno con la benzina avere altri due veicoli che non funzionano che funzionano anche senza benzina quindi ho delle immagini o anche il video ma prima voglio farvi vedere le immagini per farvi capire un po' come verrà nell'overlay come vedete ragazzi una volta che sarete a bordo ma dovete essere per forza al posto di comando quindi se siete passeggeri non vedrete in basso a destra l'indicatore del carburante quindi non viene detta la velocità del veicolo ma viene semplicemente mostrata è mostrato l'indicatore in realtà molto velocemente vi faccio vedere anche lo spezzone di gameplay dove non è niente di particolare una volta che avete in mano la tannica di benzina voi vi mettete nel posto del passeggero e andate a riempire poi appunto come vi anticipavo una volta che sarete al posto di guida vedrete l'indicatore della benzina è una cosa che io apprezzo tanto che è giusto che sia così sia per gli elicotteri sia per le barche insomma ragazzi ho anche per oggi tutte le news ve le ho dette vi ringrazio tanto per avere guardato questo video mi raccomando non dimenticate di lasciare un bel like iscrivetevi ai miei canali e a me vi trovate alle 8 in live su twitch ciao